Marianna Olivieri, siamo dinanzi a Senza Glutine, titolare di questo negozio a Montesilvano. Si parla di pizza senza glutine in questo caso perché voi, nell'ambito di una manifestazione importante come Street Food, ospiterete un famoso chef per cucinare questa pizza fritta gourmet. Di cosa si tratta? Allora, lo chef Ferrarini ci raggiungerà qui nel nostro punto vendita perché all'Expo del Senza Glutine, dove ci siamo conosciuti a Chieti, ha assaggiato la nostra pizza fritta e si è innamorato di questo piatto. E quindi ci ha contattato per fare questa manifestazione qui con noi, con la nostra pizza fritta, che proporremo anche in versione pizza fritta con la canapa e faremo un piatto gourmet insieme a lui. Marianna, parliamo un attimo di questo fenomeno, insomma, delle pizze senza glutine, comunque dei prodotti alimentari senza glutine. Sempre più persone sono, tra virgolette, costrette a mangiare senza glutine, dunque in maniera modificata come solo voi sapete fare. Solo noi sappiamo fare, ma non è proprio così. Ormai però inizia a esserci una vera e propria epidemia per quanto riguarda i celiaci in Abruzzo e quindi ci vuole uno spazio anche per loro. Ecco perché questo street food, che diventerà, spero, un'edizione, dove si potranno assaggiare sia le pizzonte, ma anche il nostro pane, le nostre pizze, i nostri dolci. Noi proponiamo anche pasta fresca all'uovo e quindi ci siamo buttati un po' su tutto quello che è il fresco senza glutine. Marcello Ferrarini, che è uno chef famosissimo, che conduce anche una trasmissione su Sky, sarà vostro ospite proprio per cucinare queste specialità? Sì, sarà il nostro ospite. Tra l'altro porterà con sé la famosissima birra Tenence, che è stata premiata come miglior birra dell'anno senza glutine e quindi tutti ad assaporare queste pizzonte e avere questa buonissima birra.